Non doveva succedere tutto quello che è successo, non doveva. Con coraggio ha lottato per dare alla luce la tua bambina, ma ha dovuto cedere agli effetti devastanti del provo 19 sui tuoi polmoni. Era affettuosa, affettuestiva. E' buona, anche se aveva un problema, lei diceva sempre che andava tutto bene. Grazie a tutti. 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 Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.